rieccoci buona domenica ben trovati sul mio canale il monza ritrova la vittoria in una giornata sicuramente non semplice perché l'avversario scese in campo allo you power stadium era di quelli toste che era probabilmente la formazione più in forma dell'ultimo periodo in campionato la formazione era la cremonese di fabio pecchia che ha degli ottimi valori ha probabilmente uno dei porteri più forti del campionato cadetto ha tante belle individualità e ha un allenatore che propone un calcio davvero molto offensivo d'altronde è cresciuto per diversi anni sotto l'ala protettrice di un certo rafa benitez la cremonese che perdendo ieri a monza non ha più praticamente speranze per qualificarsi alla zona playoff ha ancora invece tante speranze di sicuramente di fare i playoff ma ancora qualche speranze al monza di arrivare secondo certo servirebbe un autentico miracolo perché i punti da lecce sono ancora sei a quattro giornate dalla fine però la prossima giornata quella di martedì è una di quelle giornate che potrebbero decidere i destini del campionato perché lecce che ha perso in casa contro la spal e ieri ha sofferto non poco a vicenza ospiterà il cittadella che non è un cliente facile come tutte le squadre peraltro nel campionato di serie b è una squadra che potrebbe davvero mettere in serie difficoltà in lecce quindi vediamo cosa succederà e poi c'è il monza monza che giocherà in casa della salernitana annientata all'andata per tre reti a zero non aveva concesso nemmeno una palla goal alla squadra di castori con mario balotelli che aprì le danze in casa all'esordio in casa allo you power stadium segno dopo se non ricordo male pochi minuti dall'inizio della partita ecco mario ballato su mario balotelli vorrei spendere qualche minuto in più in in questo video ha fatto otto presenze con la maglia della monza e soltanto due reti una delle quali di cui vi ho parlato in in questo video la sua esperienza a monza non è ancora sufficiente mi ha fatto pensare ieri la sua assenza non tanto dalla lista dei convocati ma proprio la sua assenza dallo you power stadium il monza che si giocava un pezzo importante della sua stagione lui non c'era lui non c'era nemmeno nella lista dei convocati non è stato convocato per un problema muscolare mi dispiace mi dispiace perché sta sprecando l'ennesima occasione della sua carriera monza per lui rappresenta probabilmente l'ultimo treno della sua carriera l'abbiamo detto l'abbiamo detto più volte poi magari dopo monza che ne so andrà a fare qualche esperienza all'estero sicuramente lui sta facendo tanta fatica non vediamo gli allenamenti quindi non possiamo giudicarlo per quello per come lavora in settimana anche se ieri cristian brocchi in conferenza stampa lo ha difeso però tra le righe si è capito che anche lui non crede più di tanto in mario balotelli e ha ragione perché comunque i numeri sono questi i numeri sono ripeto 8 spezzoni di partita da dicembre e soltanto due gol io sinceramente ero ero favorevole al suo acquisto non tanto per una questione di nome ma perché ho sempre ritenuto mario balotelli uno dei più grandi talenti del calcio italiano purtroppo però in serie b devi correre non puoi essere soltanto il più forte lui attualmente sulla carta è l'attaccante più forte però se non corre in serie b fai fatica certo si puoi essere nella posizione giusta in monza salernitana per mettere dentro un pallone o in chievo monza però poi nell'arco della partita devi aiutare compagni di tornare devi lavorare di sponda e lui fa ancora molta molta fatica e mi dispiace perché ripeto questo potrebbe essere il suo ultimo treno della della carriera per quanto riguarda il calendario io non voglio fare il giochino delle tabelle a se il monza vince salerno lecce non vince o addirittura perde in casa contro il cittadella magari te li trovi che so a meno 3 meno 4 con lo scontro diretto sì ci mettere la firma martedì sera a trovarmi a meno 3 o a meno 4 dal dal lecce però è un giochino che al quale non mi voglio prestare perché conosco bene il calcio non ho viste tante di partite dalla serie a alla serie d e sappiamo bene che le tabelle alla fine non le azzecchi mai e poi non servono non servono assolutamente a nulla quello che mi piacerebbe in quest'ultimo periodo e vedere un po più di passione da parte dei tifosi il monza non ha fatto un campionato di media bassa basso livello il monza comunque lì a giocarsi un obiettivo è ancora in corsa a quattro giornate dalla fine per giocarsi questo obiettivo certo in tutti noi c'è un po il rammarico per come è andata questa stagione però ricordiamoci sempre ho intervistato proprio recentemente marco zaffaroni per per il mio libro di ricordarsi sempre da dove si arriva cioè fino a pochi anni fa il monza giocava a ciserano giocava comunque in campi di serie di si è arrivati in serie b invece nel giro di pochi anni grazie a nicola colombo e grazie soprattutto la proprietà fini investica investito tanto si è investito tanto tantissimo anche in questa stagione è chiaro che ci deve essere un po di delusione di rammarico per com'è andato questo campionato per i tanti punti persi però in questo momento devi fare una scelta lo il monza i playoff li farà sicuramente e si sta giocando ancora una storica promozione in in serie a mi piacerebbe vedere un po più di di positività soprattutto dopo la vittoria di ieri contro 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 la cremonese perché se si continua a creare negatività se si critica questo quello l'allenatore giocatori giornalisti gli altri tifosi secondo me ragazzi non si va non si va da nessuna parte però questo è un concetto che che vi dico un po da da inizio stagione ieri mi ha fatto male vedere la diretta di monza caldo che è curata da simone schillaci in maniera esemplare ultimamente avevamo centinaia di tifosi collegati per le ultime dirette soprattutto dopo le sconfitte e mi dispiace che comunque si perda una grossa fetta di pubblico quando la squadra vince vuol dire secondo me che probabilmente non si è attaccati fino in fondo a questa squadra questo è il mio è un mio concetto che che dico da tempo cioè se sei lì pronti a criticare più o meno giustamente la squadra l'allenatore quando non si vince ed è legittimo e ci sta per quale motivo centinaia di tifosi non devono comunque essere contenti per una vittoria contro una squadra comunque importante contro la cremonese non si sta secondo me preparando bene questo finale di campionato per i playoff se l'umore in generale è questo ditemi comunque la vostra come sempre commentate qui sotto mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto potete mettere anche il pollice in basso se non vi è piaciuto commentate mettete mi piace anche alla pagina facebook di monza news i prossimi appuntamenti domani ore 20 e 30 a binario sport una super puntata con il calendario del monza ci sarà il collega matteo del bue collegato della gazzetta lo sport ci collegheremo con salerno e poi alla fine di monza di salernità la monza di martedì via a monza caldo attorno alle 18 con simone schillaci vi ricordo che potete ascoltarmi sempre su radio sportiva tutti i giorni attorno alle 12 e 45 e vi lascio qui come sempre un bello sconto al bnb perché finalmente si può tornare a viaggiare ciao e alla prossima